Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video ragazzi oggi faremo Blog Burger King sono proprio qui al Burger al Burger e ragazzi adesso prenderemo prenderemo un panino e le parodine, poi vedremo che c'è tipo un toast ci vediamo dopo quando entriamo al Burger King e così ragazzi al Burger ci metteremo mettiamo il telefono e lo so ok Scusate, adesso lo mettiamo, guarda mi metto qui, mi metto qui, così vedrete pure quello che mangio, allora ci vediamo dopo all'ordinazione, e poi ci vediamo dopo, ciao raga, ecco raga e riguardo la roba qua, un toast, due rame, cioè mio padre è un lemon del potto, poi un panino e le parretti, e poi, cominciamo con le parretti, e vabbè io voglio, cominciamo con le cose che c'è, sono molto buone, sono molto buone, sono molto buone e adesso andiamo con il dolce, suggeriamo con il dolce, eccolo, è tutto questo molto buone ottimo e sono molto buone, guardate che c'è dentro, cioè, mi viene il formaggio e poi c'è quello che piace, in mezzo è un po' molto buone, non si vedremo, si, si vedete, si vede con la pallazzina è buona guarda ma io uso guardate a grano il 28 che li faccio oh ok guardalo guardalo raga allora questo qua è da parte simone sta pulendo l'orecchio simone io sto pulendo vabbè intanto aspettiamo e intanto andiamo al panino raga prima manco me ne hai accorto c'erano cine se volevo farti me lo prendi i commenti di un titolo quanto cocco sono veloci così mi sono troppo veloci sono vabbè raga mettiamo sempre una patatina di montà raga come dica il burger king è buonissimo cioè è buonissimo cosa mi vale mi vale guardare gamer ben profumo andiamo a prendere una sprite qui sta il mio bicchiere dopo mi manca mai il casino in bagno raga qui sta la mia sprite qui sta la mia sprite con la strike vi voglio far vedere il distributore cioè guardate insieme all'accompazione vedete premi e si fa però poi dopo quando finiamo la guagola ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo al panino c'è un ragazzo E' una tabella di merda Prendiamo il panino Prima il panino Prima il panino raga Assaggiamo Molto buono Guardate ci vediamo dopo che andremo al bagno E' così ragazzi Stiamo andando in bagno Questa merda Guardate i ragazzi Merda 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 Che stai facendo? Che stai facendo? Sì Sì Sono androi e li ho un coltello Ma qua c'è il maschello Mamma mia Ma resta No Allora Facciamo una buona cosa Allora Prendiamo qui Prendiamo la flashlight Bene Faccio quello qui Ma Non ci siamo i gai neri Ma che Prendiamo il Volvo Ok Buon bordo Guardate 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 iscriviti al canale Ehm... Ehm... Agh! Ehm... 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 Dio... Ehm... 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 Ecco, parata! Ehm... 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 Io vi devo salutare! Per questo video è tutto! Spero che vi è piaciuto! Lasciate un bel mi piace! Iscrivetevi al mio canale! Ehm... Alla prossima! Ciao ragazzi!